Allora, la domanda è, credo, perché questo limite faccia 1? Allora, la spiegazione che voglio dare probabilmente non sarà da libro di testo di analisi matematica, non sarà forse la cosa preferita di qualche professore, però quello che mi piace è comunicare un po' anche una sorta di intuizione, di cercare di capire perché alcune cose sono in un certo modo. Allora, per semplicità io mi concentrerei al caso in cui x va a 0 da destra. Si può fare vedere anche la stessa cosa andandoci da sinistra, però questo rende il ragionamento un attimino più semplice, più chiaro, secondo me. Quindi l'idea è questa, che quando... cosa vuol dire questa espressione? che quando l'angolo è molto piccolo, il seno e l'angolo, si possono approssimare... il seno dell'angolo si può approssimare proprio con l'angolo. Cioè, quando il limite di una certa quantità tende ad 1, di un certo rapporto tende a 1, vuol dire che il numeratore e il denominatore diventano praticamente indistinguibili, perché il loro rapporto tende a essere 1. Ma se il rapporto di due quantità è 1, vuol dire che queste due sono uguali. Ora, seno di x e x non sono uguali, ma tendono a essere uguali quando x è piccolo. Bene, come si fa a fare vedere questo limite? Possiamo ragionare così. Allora, se disegniamo la circonferenza goniometrica e disegniamo un angolo a piacere Ok, per esempio questo. Allora, disegniamo il seno dell'angolo, che è questo segmento arancione. Quindi, quello arancione è seno di x. Ora, come lo disegno l'angolo? Sappiamo che quando si parla di angoli irradianti, come si definisce l'angolo? L'angolo è la lunghezza dell'arco diviso il raggio. Nella circonferenza goniometrica il raggio è 1. Quindi l'angolo e l'arco sono la stessa cosa. Quindi vuol dire che x è esattamente l'arco. Ok? Bene. Ora, forse la x è meglio che la disegno qua. Oltre a questo, posso anche disegnare la tangente dell'angolo che abbiamo visto già prima, essere questo segmento qui. Tangente di x. Allora, cosa osserviamo in questa figura? Ora, posso fare anche uno zoom, magari così. Forse è meglio di no. Vabbè, meglio di no. Potete zoomare voi. Semplicemente guardando questa figura, uno si accorge subito che il segmento che individua il seno è più piccolo della lunghezza dell'arco, che a sua volta è più piccolo della lunghezza della tangente. Questo disegno ovviamente vale nel... io sto facendo per x che tende a 0 da destra, quindi vi ricordo che sto parlando di angoli piccoli, però nel primo quadrante. in modo tale che tutte queste lunghezze siano positive, non mi devo preoccupare del segno. Vediamo se arrivano altre notifiche. bene, quindi, cosa ho detto? Ho detto che la lunghezza del seno di x è più piccola della lunghezza dell'arco che è più piccola della tangente. Allora scriviamo questa catena di disuguaglianze. Seno di x è più piccolo di x che è più piccolo di tangente di x. Bene. Adesso io voglio scrivere seno di x su x, giusto? Allora cosa faccio? Siccome tutto è positivo e sto prendendo un angolo piccolo, ma non esattamente 0, posso dividere tutta questa disuguaglianza per seno di x. No? Tanto seno di x è positivo, non cambia il verso delle disuguaglianze. Allora questa disuguaglianza diventa 1. Mettiamoci minore uguale, tanto è un o esclusivo. Dice esclusivo, penso di sì. 1 meno x su seno di x, minore uguale alla tangente su seno, che cos'è? Scriviamoci, la tangente di x fratto seno di x sarebbe seno di x su coseno di x per 1 su seno di x. Quindi seno e seno se ne vanno, quindi tangente su seno sarebbe 1 su coseno. Bene. Ora io adesso non voglio x su seno di x, anche se potrei fermarmi qua. Voglio proprio seno di x su x. Allora facciamo una piccola osservazione. Osservazione. Se io so che 1 è più piccolo di 2 che è più piccolo di 3, come faccio a scrivere la disuguaglianza tra i loro inversi? Quindi se io adesso faccio l'inverso di 1, l'inverso di 2 e l'inverso di 3. Vedete che passando agli inversi le disuguaglianze devono cambiare di verso, perché il più piccolo tra tutti questi è 1 terzo. Quindi se passo da 1, 2 e 3 a 1, mezzo 1 terzo, i versi e le disuguaglianze li devo cambiare per forza, altrimenti non avrebbe senso. Quindi fatta questa osservazione, cosa significa? Che questa catena di disuguaglianze la posso scrivere non più in questo modo, ma come coseno di x minore uguale seno di x su x minore uguale di 1. Qua adesso si applica il cosiddetto teorema del confronto, alcuni libri lo chiamano teorema dei Carbinieri, che dice che cosa? Che se io ho una quantità, in questo caso seno di x su x, che è sempre compresa fra altre due, ovvero coseno e 1, questa disuguaglianza deve valere anche al limite. Quindi vuol dire che se io faccio il limite di tutta questa catena di disuguaglianze, questa catena di disuguaglianza deve essere vera anche per i limiti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, in definitiva, il limite per x che tende a 0 da destra di coseno di x deve essere più piccolo del limite per x che tende a 0 da destra di seno di x su x, che deve essere minore uguale del limite per x che tende a 0 da destra di 1, che è un numero, quindi sta fermo lì, non si muove. Il limite di una costante è una costante, è la costante stessa, è 1. Quando invece il coseno, quando l'angolo tende a 0, il coseno tende a 1. Questa era la base da cui partivamo, questo lo diamo per scontato. Ovvero, il coseno è una funzione continua, quindi il valore di questo limite è proprio coseno di 0 che fa 1. Quindi, da una parte il limite di seno di x su x è sempre più piccolo di 1, ma d'altra parte è sempre più grande di 1. Ma se una cosa è più grande di 1 e allo stesso tempo più piccola di 1, è per forza 1 pure quella. Quindi significa che questo limite deve fare anche lui 1. Ora, questa è, diciamo, non so se chiamarla propriamente una dimostrazione, se è super matematicamente rigorosa, perché è soltanto per x che tende a 0 da destra. In ogni caso è un primo approccio. Chiaramente, con... non so adesso la domanda se era per... diciamo, non so di che classe si trattava, però questo si può fare vedere in mille modi, cioè si può sviluppare la funzione seno in sensori di Taylor vicino a 0 e fare vedere in effetti che praticamente il seno va come x, quindi x su x fa 1. Insomma, ci sono tanti modi. Però questo è un modo geometrico che vi faccio vedere di nuovo i passaggi fondamentali. L'idea è realizzare il fatto che per un angolo piccolo nel primo quadrante, ma vi ripeto, la dimostrazione vale anche se l'angolo è piccolo nel quarto quadrante, si può scrivere questa catena di disuguaglianze, per cui il seno è più piccolo dell'angolo che è più piccolo della tangente. Siccome mi interessa seno x su x, divido tutto per seno di x, ottenendo una catena di disuguaglianze, in cui ho x su sen x, ma a me interessa l'inverso. Quando inverto la catena di disuguaglianze, inverto anche i versi, come vi faccio vedere nell'osservazione. Quindi magari qua posso scrivere così, ve lo ricordate, passando agli inversi. e arrivati qua si applica, magari anche questo qua è il caso di scriverlo, si applica il teorema del confronto. Cioè, se tre funzioni sono fatte in modo tale che la prima è più piccola della seconda e più piccola della terza, questa disuguaglianza vale anche al limite. Quindi anche i loro limiti rispettano questa disuguaglianza.